Il premio Ischia internazionale di giornalismo Dal 1 al 4 luglio i vincitori, assieme a prestigiosi rappresentanti del mondo della comunicazione, saranno coinvolti in dibattiti, interviste e convegni di approfondimento sui principali temi del giornalismo internazionale e nazionale. Si parte domani con l'intervista di Emilio Carelli a David Crossman sul tema giornalismo e letteratura. Quale contributo può dare la letteratura al giornalismo e alla politica? A seguire il dibattito, il giornalismo dei grandi media mondiali, tra guerre dimenticate e reporter uccisi, è ancora utile alla causa dei diritti umani e alla democrazia? In questa occasione la distilleria Bottega consegnerà ad Armando Valladares il tradizionale premio Alexander. Per finire verrà proiettato il documentario di Michael Kavanagh, War in the Air Congo, vincitore del premio RFK Journalism Howard negli Stati Uniti. Dopo tre giorni di dibattiti, la trentesima edizione del premio si concluderà con la cerimonia di consegna del premio Ischia internazionale. Il 4 luglio alle 21 al piazzale delle Alghe verranno assegnati i premi ad Armando Valladares, premio Ischia internazionale per i diritti umani, Mario Calabresi, direttore della stampa, giornalista dell'anno, Giuseppe Marra, presidente dell'ADN Kronos, premio Ischia informazione scientifica, Augusto Minzolini, direttore del Tg1, a cui va il riconoscimento speciale, Gian Carlo Elia Valori, vincitore premio Ischia Mediterraneo e Ilaria D'Amico, giornalista sportiva dell'anno.